Stava attraversando la strada insieme al marito quando entrambi sono stati travolti da una motocicletta che non è riuscita ad evitare i pedoni. È accaduto a Davoli nel pomeriggio di ieri. La donna Maria Grillone di 61 anni originario dei Valle Fiorita ma residente a Erba in provincia di Como è stata sbalzata a parecchi metri di distanza e per lei non c'è stato nulla da fare. Il marito Sandro Fusi della stessa età è stato trasferito in egliambulanza all'ospedale di Catanzaro. Le sue condizioni sono gravi come quelle dell'investitore proprietario di un supermercato di Davoli. Teatro della tragedia ancora una volta la famigerata strada statale 106 nei pressi della rotatoria all'ingresso del paese. Una strada definita la più pericolosa d'Italia per il numero elevato di incidenti anche mortali purtroppo. A questo proposito l'associazione Basta Vittime sulla statale 106 è intervenuta con una nota per lanciare l'ennesimo accorato appello rivolto alle forze politiche calabresi si legge affinché possano smettere di occultare un problema che giorno dopo giorno emerge nella sua drammaticità. Maria Grillone è la settima vittima della 106 in Calabria nel 2015 e la seconda a Davoli proprio nel medesimo punto. La coppia erbese si era trasferita in Calabria dopo che entrambi avevano raggiunto la pensione.